Il paese da nulla però c'è sempre sopra una stella, una grande magnifica stella che ha un dipresso, occhieggia con la punta del cipresso di Riobò. Una stella innamorata? Chissà se nemmeno ce l'ha una grande città. Ed eccoci tra gli alberi della villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Questa villa, la ex villa Casatistampa che ora è stata ribattezzata Villa San Martino. Qui, tra questi alberi, ci sono gli ambiti più importanti del mondo Fininvest. Riunioni, strategie, nuovi acquisti, contrasti profondi e grandi feste. Ed è proprio qui, in questa villa, a sole 24 ore dalle dichiarazioni di voto che hanno sollevato un grande polverone nel mondo politico italiano, in questo che è stato definito l'antro del Biscione, noi siamo arrivati per raccogliere le esternazioni di sua emittenza, pronunciate a chiara voce dalla sua poltrona di lavoro. Lei, come tutti i personaggi importanti, riscuote critiche anche elogi. Come si sente? Qual è il suo stato d'animo di fronte a complimenti che chiaramente sono interessati? O di fronte a critiche che non meno chiaramente sono prevenute, sono frutto di una crimonia? E poi aggiungo che non c'è nulla lì di più lontano dal mio spirito, dal mio modo di pensare, che quello di pensare a delle vendette o a qualcosa che sia diverso dal positivo. Ecco, io credo proprio che possano stare tutti tranquilli. Se io avrò qualche responsabilità in questa Italia nel domani, non ci sarà nulla che possa essere lontano da ciò che è giusto, da ciò che è equilibrato, da ciò che è moderato. Questo possono starne tutti quanti sicuri. L'uso che viaggi, come si chiama per l'altro, Santoro, ma l'altro, gli tassi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti, è un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. Allora, vediamo se ben onda la telefonata di Berlusconi. Berlusconi ha il telefono. Presidente, non sento niente. Presidente, in linea? Prima di continuare, vi prego vivamente di non fare dei commenti. Questa è una conferenza stampa. Si rispondono alle domande. Allora vi astennete di ogni commento. E poi ho visto tanti colleghi e cerchiamo di rispondere a tutti, ma non impazientate. Le chiedo scusa, vorrei aggiungere una postilla a quest'altra domanda. Il PDS in moltissimi comuni italiani si collega con Rifondazione Comunista, che non ha mai negato di essere la continuazione dell'ideologia marxista. in presa diretta con il passato, con un passato che la storia ha bocciato in ogni applicazione pratica, con un'ideologia che dovunque ha trovato applicazione ha suscitato soltanto miseria, terrore e morte. E questo è un fatto indiscutibile. La storia è lì a dimostrarlo. Italioni! E scusi, è finito. Ma una cosa di 50 anni fa, ma si vergogni di dire queste cose, andiamo su. È nato nel 52, signor Fini. Non abbiamo un comizio. Ma andiamo. Ma lei è il malafede, lei è il malafede. Ho dato una risposta chiarissima. Ho 20 anni da editore che dimostrano la mia lontananza da quest'ideologia. Ma come potete perseverare in una concezione di questo genere? Sarebbe come accusare Montanelli di essere comunista. Ma è possibile! Ecco, tu. Vergogna! Berlusconi è, lo dichiaro una volta per tutte per il 90, in questa sede gli dedichiamo questo inno. Ma buon anno Berlusconi, spero che non stia male. Mi scusi se mi cito, ma una volta io ho scritto con un po' di malizia che se lei avesse un puntino di tette, farebbe anche l'annunciatrice. Ho l'impressione che lei faccia un po' tutto. Adesso mi sta dicendo che ha fatto 150 colazioni, che ha fatto 3 mesi di corso. Ma non le viene mai mal di testa? Non mi viene come mal di testa. Anche l'influenza e il mal di gola, come adesso. Sente che voce che ho. No, una voce suadente. No, no, ho una voce molto bassa. Un po' arrochita. Arrochita e bassa. Ma io ritengo che anche con il mal di testa e con l'influenza si lavori benissimo. Anzi, viva l'influenza, perché si riescono ad eliminare molti incontri che magari si è costretti a fare solo per cortesia, si sta a letto, col telefono, si ha tempo per pensare, per scrivere, per parlare con tutti. Anche le malattie sono un'occasione per lavorare. Se uno ha delle cose da fare, non ha nemmeno il tempo di considerarsi malato. Berlusconi, dammi qualche lira pure a me. Berlusconi. No, non è più. Non è più. Guarda, io ti devo dare, Erika, una notizia tremenda. Berlusconi non c'è una lira. Silvio, io guarda, sento via a dire. Silvio, io ti devo dare. Non c'è una lira in banca. Ha finito i soldi, non può pagare nessuno. E ride già. E chissà cosa viene fuori domani, perché è proprio nuova. Allora c'è D'Alema che incontra... Ai, 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 eh, Berlusconi me lo poteva dire. Che incontra Bertinotti. Bertinotti lo guarda e gli dice, ma sai Massimo che hai una brutta faccia. Cosa ti è successo? Dice, guarda, ma che è successo? Sei proprio triste. Eh sì, che è successo? È morto Berlusconi. Ma no, sì. Oh che peccato. Sì. Tutto sommato era ancora giovane. Eh, era anche abbastanza simpatico. Sì, l'ho detto anche in televisione. Ma come è successo? E dice, sei andato a fuoco alla sede di Forza Italia. Davvero. E come è potuto essere? E dice, il nostro compagno passava di lì e ha buttato un cerino. Sai, un cerino, un incendio. Eh, un altro compagno l'ha passato prima, aveva lasciato una macchina, un guasto, un po' di benzina. È andato tutto a fuoco. Berbacco, Berlusconi. E Berlusconi era lì. Che brutta morte. Carbonizzato. Dice, no, no. Era su all'ultimo piano. Dice, ah, e non è morto e bruciato? No. Dice, sai che lui si è buttato. Ah, al suolo. Sfraccellato. Dice, no. C'erano i pompieri, sai, con quei teloni elastici americani. E allora, dice, è andato giù nel telone, proprio nel mezzo, rimbalzando su 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 e è andato su dall'altra parte. Sai che dall'altra parte della piazza c'è l'ambasciata turca, sai quella che è sempre fuori con la bandiera, con quell'asta cuminata. Ah, che brutta morte. Dice, ha impalato la turca. No, no. È andato giù, è arrivato sull'asta, ha fatto leva sull'asta e ha rimbalzato su 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 e poi giù giù giù. Dice, ha mancato il telone? No, l'ha preso, proprio nel mezzo. Dice, poi è andato su 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 e è andato di lì. Sai che ci sono quelle case popolari che sono le ultime nel centro di Roma? Dice, uh, dice, morto povero. No, cosa hai capito? Dice, è andato giù, lì stendono i panni e è andato dove sei sulle corde che stendono i panni, ha fatto leva, ha fatto elastico e poi su 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 e è andato su e è andato su e poi dopo è venuto giù giù giù. Dice, disassato? No, l'ha preso ancora nel centro e allora è andato su 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 e è andato in alto e poi dopo è andato giù 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 e è finito sulle linee dell'alta tensione. Mamma mia, fulminato, no, ha fatto leva anche lì, è andato giù giù, è andato su, è andato giù, è andato giù, erano andati via i pompieri, no, erano lì e allora ha preso proprio nel centro e è andato su 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 e allora abbiamo dovuto abbatterlo. Voto Antonio, voto Antonio, i italiani! Ecco, allora io già con gli spettatori di Porta Porta prima ho un po' spiegato di cosa si tratta, ma credo che lei mi debba lasciare leggere questo contratto con gli italiani che è tra Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre di un certo anno, leader di Forza Italia della Casa... Inizio è in pieno accordo con tutti gli alleati della coalizione e ICI per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini, che prevede tra l'altro l'introduzione dell'istituto del poliziotto, carabiniere o vigile di quartiere nelle città, con il risultato di una forte riduzione del numero di reati rispetto agli attuali 3 milioni. Terzo, innalzamento delle pensioni minime ad almeno un milione di lire al mese. Quarto, dimezzamento dell'attuale tasso di disoccupazione con la creazione di almeno un milione e mezzo di nuovi posti di lavoro. Quinto, apertura dei cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal piano decennale per le grandi opere considerate di emergenza e comprendente strade, autostrade, metropolitane, ferrovie, reti idriche e opere idrogeologiche per la difesa dalle... Ha visto Berlusconi che ha firmato un contratto anche con te, l'hai visto? Io dico, ma quello ormai è un culte, io l'ho messo, quella cassetta lì, l'ho registrata proprio e l'ho messa proprio fra Totò e Peppino, Totò e Vagonlì e Walter Chiari, San Chiapone e in mezzo c'è Berlusconi e Vespa che firmano. Quello ormai è uno sketch di una grandezza spettacolare, quello è un culte, non si può più, ma poi è una cosa, dice firmo in contratto con gli italiani, ma non gli viene in mente che il contratto l'ha già firmato? Lui non lo sapeva che c'è, in un luogo ben più profondo, nella coscienza, nell'anima, ma quando si diventa Presidente del Consiglio, si va da Presidente della Repubblica e si firma? C'è dentro l'anima, dentro l'uomo la firma stampata a fuoco e lui mi ha dato un contratto con Bruno Vespa, con il tavolo di ciliegi, ma io dico questo uomo, questo uomo bisogna stare attenti. Senta, le faccio un'ultima domanda, dopo tutto quello che abbiamo detto, dopo le spiegazioni… Dopo anche quello che non abbiamo detto, ci rivedremo un'altra volta, dopo tutto quello che abbiamo detto, dicevo le spiegazioni che ci siamo dati, i ragionamenti fatti per quello che è stato possibile. Non è semplicemente vero che quello che faceva prima non lo stimolava più, è l'idea di fare in una generazione, quello che in genere si fa in due o tre generazioni, è stata la vera molla per passare alla politica? È possibile questo oppure è una sciocchezza? No, è una cosa che si può pensare, che può essere pensata da altri, ma che non corrisponde a quello che è successo. Intanto devo dire che a me piaceva fare l'imprenditore e lo facevo molto volentieri e avrei continuato volentierissimamente a farlo. E quindi non è questa la spiegazione? È che avendo visto la situazione con la nuova legge elettorale… Però questo me l'ha già detto. Io credo che però bisogna fare luce su questo, oggi io vengo molto spesso dai miei avversari indicato come qualcuno che è sceso in campo per tutelare dei suoi interessi, mi lasci dire almeno questo, che oggi invece io mi sto interessando della situazione dell'Italia, della cosa pubblica, con grande passione, con grande slancio. Credo che questa passione, chi sta vicino a me l'ha sentita e la senta e credo che ci sia davvero in tutti coloro che stanno con me in questa impresa un grande fuoco contagioso, per cui noi speriamo davvero di essere in tante e di riuscire a costruire per l'Italia un fatturo molto positivo, quello che io ho chiamato, e non a caso, un grande nuovo miracolo italiano. Adesso però questo non è il momento di… Ma se non mi lascia fare, scusi, un po' di campagna elettorale, perché cosa pensa che io sia venuto qui? Allora facciamo, vorrei chiederle una… Mi l'ha lasciata fare pochissima in effetti, mi accorgo che io le ho fatto un favore a venire, più che lei un favore a me, a farmi dire le mie cose. Comunque io non volevo fare un favore ma fare il servizio pubblico e quindi è il mio dovere, non volevo chiedere un'ultima cosa per finire un pochino più leggermente. Bruno Vespa! Già, si accomodi, un momento, poi si dedica… Bruno Vespa sta in linea! No, Silvio Berlusconi! Ma abbia pazienza, ma una domanda soltanto, una soltanta domanda, una soltanta… niente. Che è successo? Berlusconi ha snobbato la RAI. Ci abbiamo un Fabrizio Del Noce da inquadrare, con una coccarda tricolore grandissima. Sì, ma appunto, voglio dire, ancora la gente vota per dieci minuti, si può fare propaganda elettorale in televisione? A vedere Fabrizio Del Noce con la coccarda. Fabrizio Del Noce fa propaganda negativa, vuoi dire. E allora lasciamoglielo. Proviamo se in linea il Presidente. Berlusconi in linea? Presidente? Non voglio affaticarti. A parte il fatto che mi sembri talmente caricato che secondo me riprenderesti la campagna elettorale subito. Sì, mi sono fatta, ho appena detto a una radio che mi intervistava, ho fatto un'immersione totale nell'amore. Dopo tutto l'odio, le cattiverie della campagna elettorale, mi sono fatto una tre giorni completa, tra le braccia dei miei figli, di mia madre, di mia moglie. Prego, prego, allora si abbassano le luci come è consuetudine, io vado a marcare il tempo, che questi e quelli per cuocere l'uovo, quando l'uovo e il sodo suonano. Anche oggi ho letto i giornali e rispetto al messaggio che ieri sera avevo voluto inviare ai cittadini, un messaggio di serenità, di tranquillità, un messaggio positivo, c'è stato un capovolgimento totale ed è venuto fuori invece un messaggio di inquietudine, di incertezza. La Repubblica si è segnalata, attribuendomi parole che non ho mai pronunciato, che non ho mai neppure pensato, dopo di me i disordini e poi dentro addirittura io oppure il caos, io sfido in tutta la conversazione di onore che ho avuto con i giornalisti a trovare qualcosa che possa riferirsi a queste mie parole. L'unità parla di minacce o addirittura di ricatti, il ricatto di Berlusconi o io ho gravi disordini, il Corriere della Sera, Berlusconi si cade il governo, disordini, la stampa si cado, è il caos, che cosa ho voluto invece dire io? Fermi tutti, fermi tutti, così riscaldiamo l'ambiente. Chi ce l'ha la storia dei libretti? Io Santoro, no, io esigo che lei, esigo perché mi sembra che sia un mio diritto, che lei mi faccia terminare una frase che aveva iniziato. Terminerà, non si preoccupa. Non condivido questo sistema di conduzione perché toglie agli spettatori, no non è un minimo, è un massimo di dissenso, questo è un modo per non arrivare a chiudere un ragionamento. Ma c'è un motivo, c'è un motivo che le spiego, siccome io devo produrre delle argomentazioni, siccome lei ha tutto il tempo per esprimere la sua opinione e per correggerla, ma io ho dei tempi obbligati che sono qui di dare comunque la pubblicità fra 20 secondi, finisca, finisca pure, guardi, io alle 10 dovrò interromperla, quindi cerchavo di fare una cosa in 30 secondi, mi facciava neanche tempo e lei riprendeva. E allora finisco? Finisco. Al Presidente del Consiglio, chiederò scusa all'azienda. Berlusconi! Beh! Berlusconi! Detto il? Cavaliere di? Del? Del? Piscione! Lo scontro finale non poteva che essere questo, quello tra Silvio Berlusconi, il leader del Polo per le Libertà e Romano Prodi, il leader dell'Ulivo. Ci sarebbe tantissimo da chiedere e per la verità tanto vi è stato già chiesto nel corso di questa lunghissima maratona, sono più di due mesi di fatto di campagna elettorale, ma qui siamo ai giochi finali, non ci sono state variazioni nelle indicazioni dei due schieramenti, quindi la sostanza è questa, se vince il Polo sarà Silvio Berlusconi andare a Palazzo Chigi, se vince l'Ulivo sarà Romano Prodi. E allora la prima domanda fatalmente non può che essere questa. Se lei va avanti a fare le domande, a interrompere, io la picchio. Ho una minaccia in diretta. Io invece stringo la mano e dico risponde alle mie domande con chiarezza perché lei non ha risposto. Le ho detto, ho risposto, ho fatto conferenze stampo, ho fatto tutto, perché dite queste sciocchezze? In questo momento forse il Presidente del Consiglio dovrebbe ripetere. In questo momento il Presidente del Consiglio, che è una persona seria, sta facendo il suo lavoro, cioè di rappresentare l'Italia al massimo livello nella conferenza internazionale sul crimine organizzato. Non è il momento più opportuno secondo me. Non dica sciocchezze. Non credo, non si sente. Pronto? Che è successo? In altre parole, se lei si sente vittima di una manovra, di un complotto. Io non le rispondo perché lei questa mattina ha affermato che io non rispondo alle domande. Per una volta mi consenta di darle ragione. Pronto? Pronto? No, 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 no. Io sono obiettivo, il vostro giornale, francamente, io lo leggo una volta alla settimana e questo mi consola perché tutto ciò che io pensavo di chi partiva da quella parte politica è vero. Buonasera signor Santoro. Dica pure. Allora, un intervento brevissimo perché da alcuni interventi appunto intorno alla campagna di spot che in questo momento Forti Italia presenta sulle reti della Fininvest, mi è sembrato venisse fuori qualche cosa che sapeva di regolare, cioè mi è sembrato di capire che si volesse dire che da parte dell'editore di queste televisioni c'è un privilegio di poter usare prima degli altri, meglio degli altri, più degli altri, le proprie televisioni per far passare uno spot pubblicitario. Ecco, io vorrei precisare che così non è. Forti Italia, essendo regolata come tutti gli altri partiti da una legge molto precisa, ha una certa somma da spendere. Ha deciso di spendere la somma per la sua campagna pubblicitaria utilizzando la pubblicità in televisione. Analogamente il PDS in questi giorni sta facendo una grande campagna promozionale, invece della televisione e me ne spiaccio, usa i poster e in molte, anzi nelle principali città italiane ci sono dei poster che regolano lo slogan per il governo di 3 metri per 6 metri, per un costo che da quel che mi risulta è dal miliardo al miliardo e mezzo e quindi è un costo analogo a quello che Forti Italia spende sulle televisioni della Finipest. È stato un extra comunitario, è andato da quella parte, bravo, da quella parte lo prenderà. Come va laggiù? È stato un albanese, l'ho visto, con quasi occhi. Deve pazientare, l'ambulanza non arriva perché c'è il regime comunista. Se non lo interrompiamo, passano le elezioni regionali e inizia già la propaganda per le elezioni politiche. Scusate, queste sono cose concreti, scusate, se permettete, usate, non è possibile, queste sono cose seri, concrete, voi buttate tutto in burletta. Scusate, allora, lei ha titolo di lamentarsi, se Berlusconi parla 3 minuti è lei 1, io siccome le do lo stesso tempo che fa Berlusconi, la prego di non interrompere. Ce lo dia, ce lo dia. Ti ho dato già prima, adesso parli esattamente quanto ha parlato l'onorevole Berlusconi. La seconda volta che la prego di farlo. Questo telefono non vuol saperne di innestarsi questa linea qui, credo io. Credo anche che gli italiani tutti abbiano voglia di vivere anche in un clima meno acceso e meno venenoso. Allora chiedo veramente la cortesia al Presidente del Consiglio, uno di venire qua e andare avanti a spiegare le cose, è utile, l'altra il 18 aprile. Era una data legata alla democrazia cristiana. Il 18 aprile del 1946 l'Italia ha scelto la democrazia, ha scelto l'Occidente, ha scelto la libertà. Se non avessero i nostri padri scelto bene, noi avremmo avuto un regime non di libertà e non saremmo una democrazia. Allora, se il 27 marzo avessero vinto le sinistre, l'Italia avrebbe avuto un futuro senza benessere e senza libertà. Santoro, lei è un dipendente del servizio pubblico. D'accordo. Si contenga. Io sono un dipendente del servizio pubblico, non sono un suo dipendente Berlusconi. Santoro, scusi. E' pronto? Eccomi qua. Ecco il Presidente Berlusconi. Grazie Presidente. Buonasera, Presidente. E' stato un cup de teatro, sembra quasi che io abbia preparato questa suspense, Presidente. Poi volevo dire anche, perché questo è dovuto a chi ci ascolta, che io ho veramente fornito tutte le garanzie possibili e immaginabili perché il Presidente Berlusconi potesse essere qui stasera. Devo dire che sono andato molto vicino al limite, quasi oltre il limite che separa il confine della dignità, della professionalità, della professionalità del giornalista e anche della mia dignità come persona nel fornire queste garanzie. Ho veramente cercato di tranquillizzare da tutti i punti di vista, ma non è servito a molto, come vedete, anche se questo spazio era di Berlusconi, resterà di Berlusconi, nel senso che non sarà riempito. Una volta scendeva in campo anche tuo padre, no? Sì, questa storia ora si dice sempre scendere in campo perché Berlusconi è sceso in campo e lo imitano che dicono Dini scende in campo, Prodi scende in campo, ma questa frase infatti non mi era nuova, perché quando ho sentito, avevo già sentito molte volte questa frase perché sono d'origine contadina, signor Biagi, mi ricordo da ragazzo quando ero bambino e mio babbo tutte le sere, verso le 9 di sera, si alzava, siccome non avevamo il bagno in casa, prendeva un foglio di carta gialla, quello che davano ai negozi per incartare la roba, se lo metteva sotto il braccio e diceva io scendo in campo e se ne andava, a me sta frase, ora quando l'ho risentita, quando l'abbiamo sentito Berlusconi a reti unificate e direi italiani io scendo in campo, il mio babbo ha fatto due occhi, ma come? Con tutti i soldi che c'ha non c'è neanche fatto il bagno in casa quello sporcaccio.